Musica Ben ritrovati a tutti da Jessica Maffei Oggi il Museo Cosmos vi vuole parlare di Guigi Roberti Bricchetti Un pavese forse non così noto a tutti Musica Tra il 1888 e il 1891 compilì ben tre spedizioni Nella cosiddetta Forno d'Africa ovvero nell'Apinosa da Somala Musica 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 Questi viaggi gli consentirono di raccogliere tutta una serie di reperti naturalistici ed etnografici che andarono a costituire un'importante raccolta personale Musica 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 Grazie a tutti.